opere che spaziano dal 1950 al 2016 una retrospettiva con alcune opere inedite installate in 2000 metri quadri ha aperto domenica 24 giugno a treviso il museo simon benetton dopo la ristrutturazione durata due anni scelta concreta quella di realizzare questo museo dopo due anni di lavoro ci è stato fatto un restauro conservativo importante un restauro che comunque ha voluto mantenere inalterata tutta questa armonia che va dal parco fuori alla struttura stessa all'architettonica è un posto che parla appunto del maestro le sue migliori e maggiori performance artistiche sono nate qui e chiaramente non potevamo snaturare il messaggio del luogo ecco il parco offre la macroscultura urbana ed è un percorso che va dal 1968 al 2012 all'inaugurazione presenti autorità parenti ed artisti arrivati per ammirare le opere del maestro il museo è aperto su prenotazione da lunedì alla domenica tutti i giorni per effettuare appunto le visite guidate abbiamo questo parco che offre un'immensa soddisfazione di culturale la chiamo così dal 1968 al 2012 e chiaramente per visitare al meglio questa struttura sia all'interno che l'esterno perché l'edificio è in stile scarpiano come potete vedere dalle immagini e a nostro avviso selezionare appunto dei piccoli gruppi fa vivere meglio questo luogo che parla di pace e di armonia